Royal Family. William e Kate hanno deciso di parlare al piccolo George e dirgli che cosa lo aspetta nel suo futuro. Ecco tutti i dettagli. Il primo genito di William e Kate sta crescendo e i genitori hanno ben pensato di iniziare a spiegare al piccolo George che cosa lo aspetta nel suo futuro. Noi tutti lo sappiamo molto bene. Un giorno George sarà re d'Inghilterra. Infatti, è il quarto in linea di successione, dopo la regina Elisabetta, il nonno Carlo e il papà William. Ma quanto ne sa il principe di quello che lo sta aspettando nella sua vita? Da alcune indiscrezioni di queste ultime ore pare proprio che William e Kate lo abbiano già messo al corrente di come stanno davvero le cose. William, in particolare, vuole occuparsene personalmente perché sa bene che cosa vuol dire. Ecco tutti i dettagli. La famiglia reale d'Inghilterra ha sempre gli occhi puntati addosso e, in particolare, i figli di William e Kate sono molto seguiti. Non mancano sui social post ironici sui piccoli George, Charlotte e Louis, ma George ha ormai sette anni e pare debba già iniziare a prepararsi perché un giorno salirà al trono. Infatti, da alcune indiscrezioni delle ultime ore da Londra, pare che William e Kate, alla vigilia del suo settimo compleanno, gli abbiano spiegato come stanno davvero le cose e che dopo la regina Elisabetta, dopo nonno Carlo e dopo il papà, sarà lui a portare la corona. Per il momento George sarà spesso accanto al padre, che ha molto a cuore questo argomento dal momento che l'ha vissuto in prima persona. Inoltre, riceverà una normale educazione familiare per renderlo sempre al passo con i tempi. Ma il piccolo George avrà davvero capito l'importanza del ruolo e che entrerà a far parte della storia? Grazie a tutti.